io ne vedo una cosa c'è le ruote che si chiamano mandrake no 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 questa è una munnezza no la mia cosa ma che sta facendo quello abbiamo fatto la band qua il cantante l'altra cantante io mi metto a suonare qualcosa attenzione qua che ci fucilano non inculatemi per favore brutti ricordi di questa scena che è successo ha fatto un rumore bruttissimo ha fatto una fiammata nera ho visto si ma la temperatura come sta no sta bene si l'abbiamo come dal italiano lo so va bene ma ho fatto proprio bruttissimo non sono stato io stavolta questo è molto intelligente che pure lui per la rubrica per la nuova rubrica gente che guida in mezzo alla strada oppure gente che guida come se fosse su gta ecco il terzo episodio oh il cotto è stato un ruote che guida in mezzo è stato un ruote che guida in mezzo e questo cammina proprio al centro se io potrei passarlo alla destra un altro po' eccoci tu, ce l'abbiamo fatta ti sei perso dei pezzi cosa ti sei perso dei pezzi? ah si ah ma tu sei un po' italiana ma ci puoi pensare male ahahahah erano come due pazzi in me adesso che ci sei alzata io non avevi visto che c'era una macchina non ho capito che erano i carabinieri nooooo però corre ohhh porca puttana merda No, è scappato, è scappato. No, è scappato, è scappato, è scappato, è scappato. No, è bussi, bene, è scappato, è scappato, è scappato, è scappato, è scappato. Io mi ha spezzato le gambe, secondo me. No, non ho mai visto come stava correndo prima. Era tutto munco. Però ora guardalo, non pagino quasi dentro, che fuggisse. Chiudi un attimo, sì. È bussi un attimo. ma avevo seguito un tronfo fortissimo pensavo che era caduto uno in moto vabbè uno che ha un attimo la protezione animale e che cazzo di botta io pensavo che fosse caduto uno con la moto perché sembrava un tronfo di quando fai ma ho visto le luci blu guarda che occhio di falco ormai senza tassi ho scusato no 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 mi dispiace e magari anche tu non cammini a centro strada oi Grazie